Amsterdam è da sempre una delle capitali europee più richieste ed affascinanti. Il centro storico è bellissimo con le sue viuzze lungo i canali, con gli abitanti che sfrecciano in bicicletta, le case alte, strette e coloratissime e una vivace piazza Dam. La capitale olandese è da sempre molto attiva ed è considerata tollerante, solidale e attenta all'ambiente. Non è un caso infatti che è stata nominata la città più vivibile d'Europa. Nel nostro viaggio organizzato ad Amsterdam potrai staccare la spina per un weekend e tuffarti nella cultura olandese ricca d'arte. Visitare delle capitali europee seguendo i racconti e le spiegazioni di una guida professionale è il modo migliore per cogliere l'essenza di un paese straniero. Nel nostro viaggio organizzato ad Amsterdam visiteremo le principali attrattive della città, a cominciare dal Damrach, la sua arteria centrale, per poi proseguire verso Piazza Dam, sempre ricca di eventi e di artisti di strada. Passeggiando lungo i canali visiteremo il mercato dei fiori e i quartieri più interessanti dove potremo ammirare le case dei ricchi mercanti del secolo d'oro. Grazie alla nostra guida locale potremo visitare anche gli scorci più insoliti della città e conoscere le tante curiosità che li accompagnano. Nel nostro viaggio organizzato c'è anche una bellissima crociera lungo i canali per poter ammirare la città da un altro punto di vista. Amsterdam è una città ricca di musei, tanto che c'è un quartiere dedicato ad essi. Noi visiteremo il Van Gogh Museum con le opere del più importante artista olandese. Qui sono custoditi i capolavori come il mangiatore di patate o la camera di Vincent a Darla. Per completare il viaggio avremo l'occasione unica di poter visitare anche un po' di campagna olandese con i famosi mulini a vento. Insomma, questo viaggio organizzato ad Amsterdam sarà un bel weekend completo ed appagato. Questo viaggio organizzato è pensato per tutte le persone interessate alla storia, all'arte e alla cultura. Le giornate saranno ricche di visite e ci muoveremo tra le varie attrazioni principalmente a piedi, grazie alla posizione centrale del nostro hotel. Consigliamo quindi un abbigliamento comodo e per prudenza impermeabile. La sera torneremo in albergo stanchi ma super appagati per tutte le cose che avremo visto con la nostra guida turistica. Le cene sono incluse ai ristoranti in centro ad Amsterdam, mentre i pranzi saranno liberi. Ma nessun problema, ci sono talmente tante opzioni di ristorazione che ogni palato verrà soddisfatto e ci sarà anche un po' di tempo per rilassarsi lungo i canali. Il nostro team di professionisti studio organizza il viaggio nei dettagli per sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Le nostre proposte partono a date fisse con prezzi chiari e bloccati, in periodi adatti allo svolgimento del programma nel migliore dei modi. Ascoltare le spiegazioni di una guida turistica ti farà immergere completamente nell'atmosfera del luogo che visiterai. Comunicare all'estero non sarà un problema, ricevere aiuto dai tour leader e dalle guide locali. Partire con altri viaggiatori significa condividerne esperienze e sensazioni e perché no trovare nuovi amici. Conoscerai tutti i dettagli di ciò che ti aspetta prima della partenza grazie alle nostre presentazioni. Con un accompagnatore dall'Italia parti senza pensieri. Ci occuperemo noi del programma e dell'itinerario. Tu dovrai solo pensare a goderti viaggio. Visita il nostro sito ilviaggiochetimanca.com e scopri le recensioni di chi ha già viaggiato con noi in questi anni e di nostri nuovi itinerari. Per informazioni e prenotazioni puoi utilizzare il form che trovi in fondo ad ogni scheda di viaggio oppure i nostri contatti e-mail e telefono. I nostri uffici si trovano ad Iseo, proprio a due passi dal lago, perciò se preferisci e conoscerci di persona. Siamo tutti qui, ti aspettiamo!